Il Real Forio può finalmente ritornare a prender fiato dopo il triangolo di fuoco composto da Portici, Caevanese ed Ercolanium che ha tenuto braccati i bianco-verdi in questa prima fase del girone di ritorno. Il bilancio è di una vittoria con il Portici e due sconfitte con Caevanese ed Ercolanium. Tutto sommato tre punti soddisfacenti, al di là delle normali delusioni viste le prestazioni della squadra che non ha affatto demeritato contro le prime della classe. Per i ragazzi di Misteriovine ora inizia un altro campionato. Il cammino, che si spera, porti ad una salvezza quanto più tranquilla possibile. Gli isolani saranno ospitati dal Mondragone domani alle ore 15, con pagina attualmente appaiata a 27 punti in classifica proprio con il Real Forio. Uno scontro salvezza che sarà reso difficile dalle condizioni del terreno di gioco, tra i peggiori della categoria. Misteriovine non avrà a disposizione i fratelli Saurino. Stop di almeno di un mese per Ciro, per una lesione abbastanza consistente. Già Luca potrebbe rientrare la prossima settimana. Continuerà ad essere squalificato Antonio Di Dato, alla seconda delle tre giornate di squalifica. I casertani invece dovranno rinunciare al proprio tecnico Nicola Coppola, squalificato dal giudice sportivo fino al 29 febbraio. Quella di domani non è certamente l'ultima spiaggia, anzi, rappresenta però una grande occasione per avvicinarsi con una vittoria definitivamente alla quota salvezza, spingendo a distanza di sicurezza la zona play-out, o quantomeno strappando un punto comunque utile, in attesa delle partite in casa da vincere a tutti i costi.